Dal riscontro che abbiamo dai nostri associati, delle imprese alberghiere sia della costa ma anche dell'entroterra, abbiamo un dato molto positivo. È un dato che è dal 15 al 20% di incremento delle presenze turistiche alla luce delle prenotazioni, delle conferme. Tutto ciò è dovuto sicuramente al fatto che le marche hanno una maggiore visibilità a livello nazionale e internazionale, perché ci sono anche molti stranieri, ma anche l'attrazione di Pesaro a Capitale della Cultura 2024. Abbiamo direttamente diversi gruppi che verranno a Pesaro in questo periodo pasquale e anche subito la settimana dopo di Pasqua. Abbiamo l'inizio della settimana cicloturistica di Gabice Mare, che porta sempre tanti stranieri lungo le nostre coste. E poi abbiamo un altro dato sorprendente. Noi abbiamo organizzato a Pesaro il meeting nazionale dei direttori provinciali di Federalberghi, che era stato immaginato nel mese di giugno. Abbiamo dovuto spostarlo a novembre perché non c'erano disponibilità di camere, quattro stelle per ospitare i direttori del nostro sindacato del mondo turistico. Quindi questo vuol dire che Pesaro, grazie a Pesaro Capitale della Cultura, la provincia, grazie alla nuova immagine che le marche hanno a livello internazionale, grazie anche all'itinerario della bellezza che noi proponiamo in tutta Europa, in tutta Italia, ha un riscontro estremamente positivo.